Alex e Soleil sono sempre più complici all'interno della casa di Cinecittà. I due ormai si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme, un feeling che non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini del GFV, e neppure ai telespettatori da casa, molti dei quali hanno puntato il dito contro la coppia. La moglie dell'attore, infatti, recentemente ha fatto un post al vetriolo sui social, in cui ha ammesso di essere delusa dal comportamento del marito e di non riconoscerlo più. Insomma, il clima tra i due coniugi sembra essersi inasprito, e non si esclude che al più presto possa esserci un confronto diretto tra i due proprio nella casa del GFV. Ma le sorprese non sono finite qui, perché a svelare dei retroscena su quanto potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane, ci ha pensato l'esperta di gossip Dejanira Marzano, che sui social è tornata a parlare di Alex e Delia. Secondo la nota influencer napoletana ed esperta di gossip, Delia Duran potrebbe entrare nella casa di Cinecittà, ma non solo per un confronto con suo marito, bensì come nuova concorrente di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP.